Questi sono i video senza parole, siamo a casa del papi, parliamo con delicatezza per rispetto della situazione, perché mamma mia continua a fare le pulizie alla piccola bella, piccola, che poi è diventata più grande da madre. Ecco pulisci bene lì sotto, bene bene, dai, dai, bravo, io voglio fare la faccia di stella. Eh? Credo che non ci siano bisogno di parole, tutto questo succede a casa del papi.